Il Milan dovesse vincere la finale ad Atene, ragazzi, e io prometto che mi immergerò nella fontana via Roma, mi farmi bagno e rottura. Quale è la fontana via Roma? Scusate, la fontana alla stazione. Ah, ok. Ado, come metto la partita? Un spettacolo. Punto. Dove l'hai visto? Casiroberto. Beh? Un spettacolo. Ha colto in zaghi. Al primo risultato, al secondo tutti in silenzio. Sì, no? Che ha colto quello là? Mi sono andato a Santa Lucia, non la metto. Si è andato a Santa Lucia? Sono sceso solo a casa, mi sono andato. È vero, non hai visto la fine della partita. Quanto l'ha sentito? Guardi. Ehi, quando dovete buttarli sotto l'acqua? Quando si arrivano un po' di bambini a dormire, poi ci hanno la fermata. Bravo Aldo! E si alza! E si alza! Vabbè io non sopravenire, ma il caos, il delirio! Dio! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Take it, Take it. 1, 2, 3, 4! Come è l'emozione? Spettacolare! Come è l'emozione? Come è l'emozione?